Cari amiche e cari amici, innanzitutto un caro saluto, buon martedì sera e buon rientro a casa dal lavoro. Come sapete si è concluso da poco il giro di incontri che il Presidente della Camera di Deputati, l'On. Roberto Fico, ha tenuto in questi giorni, dopo aver ricevuto un mandato esplorativo da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, per verificare con i gruppi parlamentari della Camera e del Senato che già appoggiavano, che già sostenevano il Conte 2, più il nuovo gruppo parlamentare degli europeisti, i cosiddetti responsabili costruttori, se c'erano le condizioni per un reincarico a Conte, quindi dar vita a un Conte Terre che porti il Paese fino al 2023, quindi alla scadenza naturale della legislatura. Dalle fonti di stampa che abbiamo, cito ad esempio il Fatto Quotidiano, questo è riportato nel sito web, quindi un quotidiano che non è certamente legato al centrodestra, è un organo di stampa molto vicino al Movimento 5 Stelle e al Presidente del Consiglio dei Ministri di Missionario, ha parlato di un nulla di fatto, quindi la mancanza di un programma condiviso con i vetti da parte di Matteo Renzi, da parte del Segretario nazionale di Italia Viva, che addirittura, così riporta il Fatto Quotidiano, voleva decidere la nomina dei ministri, anche di spettanza del Partito Democratico, poi c'è tutta la partita dell'attivazione o meno del MES riformato, quindi la tensione è palpabile e il Presidente della Camera è salito al Quirinale, è salito al Colle per riferire al Capo dello Stato Mattarella. Ora, come sappiamo, la nostra è una Repubblica di tipo parlamentare a debole razionalizzazione, cosa vuol dire questo? Vuol dire che i meccanismi, o meglio gli interventi da parte del diritto costituzionale per assicurare la stabilità del rapporto fiduciario tra governo e Parlamento, il governo è l'espressione della maggioranza parlamentare, che poi è una maggioranza politica che gli ha accordato la fiducia, sono scarni, sono pochi. Quindi tutto si gioca quando si verifica una crisi di governo, la maggior parte delle crisi sono tutte di natura extraparlamentare, quindi al di fuori dell'approvazione di una vera e propria mozione di sfiducia, si gioca sul piano del compromesso politico, della diaretica politica. Ora, sicuramente il Capo dello Stato ha tra i suoi obblighi quello di sondare, di valutare tutte le possibili strade, quindi verificare se c'è una personalità politica o anche tecnica che sia in grado di formare una compagine governativa e che, in base all'articolo 94 parte seconda della Costituzione, ottenga la maggioranza nei due rami del Parlamento italiano. Tuttavia io credo che Mattarella non possa non prendere atto, e su questo il centrodestra, quantomeno una parte del centrodestra è stata chiara, che c'è una profonda a questo punto delegittimazione delle forze politiche di maggioranza. Una delegittimazione che nasce anche dai precedenti risultati elettorali che si sono susseguiti tra il 2018 e il 2020, il partito di maggioranza relativa tra elezioni regionali, elezioni europee, tra Ascio e elezioni amministrative ha più che dimezzato il proprio consenso. C'è un aumento della tensione sociale a causa di una gestione sommaria, deficitaria delle conseguenze soprattutto economiche e sociali, strettamente collegate all'emergenza sanitaria causata dalla diffusione dell'agente virale SARS-CoV-2. È entrata in vigore, lo ricordo, nel mese di ottobre scorso la legge costituzionale 1 del 2020, a seguito del referendum approvativo di giorni 20-21 settembre dello scorso anno, che sarà operativa alla fine del quinquennio di legislatura oppure qualora vengano sciolte anticipatamente le Camere, che riduce il numero dei deputati e il numero dei senatori. Quindi c'è anche il pericolo di perdere lo scranno parlamentare. Quindi ci sono tutta una serie di elementi di delegittimazione, che è un concetto ovviamente di natura non giuridica ma politologica, che quantomeno dovrebbero far pensare al Presidente la possibilità, non è un obbligo ovviamente, il Presidente ha tante strade davanti, di verificare lo scioglimento anticipato delle Camere e quindi mandare al voto. Io personalmente non credo a un esecutivo di solidarietà nazionale, mi sembra una categoria vetusta, vecchia, da anni 70 del secolo scorso e se il centrodestra, che attualmente è all'opposizione, vuole suicidarsi si accomodi a un esecutivo del tutti dentro. Credo che il voto sia la soluzione migliore. In questa fase il Governo sbrigherà gli affari correnti e, come dicevo prima, gli atti strettamente urgenti. Buona serata a tutti e continuate a seguirmi sulla mia pagina.